Sindaco, lei ha inviato oggi una lettera al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per evidenziare la situazione dell'ospedale di Civitavecchia. Qual è la situazione? La situazione dell'ospedale di Civitavecchia è drammatica, perché purtroppo abbiamo tanti medici che vincono avvisi pubblici in altri ospedali di Civitavecchia e se ne vanno. E purtroppo non abbiamo le sostituzioni. In poco tempo abbiamo perso 333 unità tra medici e infermieri. stiamo purtroppo perdendo anche altre unità dove la gente va via e non viene sostituita. Abbiamo primari che sono costretti ad andare via perché i tempi per loro disposizione sono scaduti senza fare i concorsi. Ovviamente questa è una situazione drammatica che abbiamo ereditato dalla Polverini. Non possiamo pensare che noi a costo rischiamo di chiudere l'ospedale. Allora è ovvio che noi qui abbiamo... Oggi ho scritto una lettera drammatica al Presidente dell'Aggiunta regionale. Quando sarà lunedì e martedì mi ricorrerò personalmente insieme ai sindaci di cui io sono il Presidente dell'Assemblea per reclamare quella dignità che anche Civitavecchia ha nei confronti degli altri ospedali e nei confronti delle altre asle. Per cui questo grido di dolore non può rimanere inascoltato ma vogliamo prima di decidere di assumere azioni di lotta non tanto contro la Regione ma contro il Governo perché ieri ho avuto un incontro con Fadda che è il sottosegretario alla Salute dicendo che la situazione dell'ospedale Civitavecchia è drammatica. Io dovrò regarmi al Ministero e alla Regione per fare in modo che l'ospedale Civitavecchia abbia quelle risorse necessarie perché altrimenti l'ospedale veramente chiude e la sanità nel territorio certamente oggi è quella che è e non può continuare così. Siccome mancano almeno 20 medici, mancano almeno 4 primari, bisogna fare i concorsi dei primari, mandare quei primari, mandare i medici, mandare gli infermieri, assumere gli infermieri necessari mandando forse a rifare in reparto quegli infermieri che si sono imboscati perché abbiamo infermieri imboscati ognuno deve fare il suo lavoro, il Direttore Generale, cioè il Commissario Statutico, sta facendo il suo lavoro. La Regione Lazio ci ha posto l'attenzione necessaria però dobbiamo dire che questo non basta perché la drammaticità della situazione non consente ulteriore perdita di tempo.